La storia infinita è il titolo di un film che calzerebbe a pennello per un'altra storia infinita, la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria, del film sappiamo il finale, ma della Salerno-Reggio Calabria ancora no. È una vicenda che colpisce la collettività che però è stata di fatto inerme, nel senso che abbiamo accettato tutto questo e oggi paghiamo il dazio di un senso civico assente, quindi nelle varie manifestazioni in cui il popolo può autodeterminarsi, quindi nelle votazioni o nelle contestazioni noi siamo mancati e purtroppo questo è quello che ci ha riservato lo Stato italiano. Senta ma l'autostrada Salerno-Reggio Calabria riusciremo a vederla completata secondo lei? Credo di sì, non si sa quando ma credo di sì. Come al solito si sa come funziona qui da noi, si iniziano i lavori ma non si finiscono mai, è da sempre interrotto. Io mi ricordo, facevo Cosenza, la mezza, già 35 anni fa, era interrotta sempre con interruzioni e ancora ci sono interruzioni. Il lunedì diceva che nel 2008 sarà completata l'autostrada, quindi a questo punto non so, lui aveva postulato una prima pietra a Salerno, da quelle parti, con una serie di lavori, non lo so. È veramente una cosa triste, speriamo che i nostri figli, i nostri ipoti vedranno quest'autostrada, io sono positivo, quindi speriamo di sì. Bella domanda, spero presto, spero presto ma la vedo dura. Se fossimo un paese serio dovrebbero immediatamente sospendere il direttore dei lavori, la ditta appaltatrice, il responsabile, il ministro e metterla in galera, prendere la chiave e buttarla e dopodiché fra 7, 8, 10 anni finalmente le faremo uscire. Questo non succede, che cosa succederà adesso? Ci saranno disagi per andare avanti e indietro. Questo poveraccio che è morto, sì e no forse lo indernizzeranno con qualche spicciolo. La colpa di chi è? Non si sa. Quando finirà questa storia infinita? Credo che, visto la mia età e mi ricordo da quando ero piccolo, che era sempre in continua manutenzione? Non so, la vedo lunga.